Eccoci qua, eccoci qui, sabato notte, dinner and dance del convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di questo gruppo di giovani ragazzi carichi ed entusiasti di far festa che vengono da Bergamo. Allora ragazzi, voi siete qua per festeggiare e mi avete detto un compleanno di chi? Di vicino al microfono. Sara. Ok, Sara quanti anni compie? 22. Sara, 22 anni da Bergamo. Allora, che canzone cantiamo per Sara? Acqua azzurra e acqua chiara. Ok, vai con acqua azzurra e acqua chiara. Tu non è ancora iniziata. Vai, vai, vai. Vai. Aspetta, aspetta. Aspetta, vai. Ogni notte ritornare e cercare qualche bar, vuoi mandare il ciao che fai, e non ci sei mai, ma quando ci sei tu, tu non c'è più. No c'è più. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti